Allora, c'è un po' di roba da dire, questo video è un po' particolare, un po' diverso dal solito ma essenzialmente in questo video voglio parlarvi di quello che penso io della situazione di Destiny attualmente e voglio parlarvi da una parte ovviamente da content creator quindi in qualche modo dipendente al momento da Destiny e dall'altra parte ovviamente da fan del giocatore semplice del gioco Premetto col dire ovviamente che questo è un video in cui voglio discutere con voi voglio dirvi la mia idea proprio a cuore aperto, voglio dire quello che appunto penso di questa situazione e voglio assolutamente che voi minciate la vostra per capire sia ovviamente se sono l'unico scemo che la pensa così e per qualche modo far capire anche a Bungie che è il momento di cambiare Prima di iniziare voglio dirvi però che questo dato che è un video discussione l'ho messo in premiere apposta per poter rimanere 10-5 minuti dopo il video a chiacchierare e discutere di quello che ho appena detto quindi vi prego di guardarlo fino alla fine e di rimanere dopo per dire la vostra Partiamo col dire che obiettivamente Destiny non se la sta passando bene e questo periodo penso sia il periodo più basso e vuoto di tutta la storia di Destiny 2 Ma facciamo un piccolo passo indietro e partiamo da Shadowkeep che secondo me è stato un po' l'inizio del decadimento di quest'ultimo anno Shadowkeep essenzialmente aveva un'altissima aspettativa da mantenere che era quella di Forsaken che è stata obiettivamente l'espansione migliore di tutto Destiny sia 1 che 2 probabilmente e che aveva veramente veramente tanti contenuti tra Città Sognante, Story, Riva Contorta, tutte le varie cose segrete c'era veramente tanta tanta roba da fare quindi diciamo che Shadowkeep è partita un po' svantaggiata perché aveva come ho già detto un'altra aspettativa da mantenere in più Shadowkeep dovrebbe essere la prima produzione singola di Bungie ovvero fuori dalla dipendenza con Activision e diciamo che i miei pareri su Shadowkeep sono stati un po' contrastanti perché da un lato la storia mi è piaciuta molto le basi di loro mi sono piaciute molto l'evoluzione possibile di questa storia mi è piaciuta molto dall'altra parte i contenuti a mio parere erano veramente pochi perché una volta finita la campagna una volta fatte le prime cose che c'erano da fare non c'era più tanto altro dovevamo aspettare la segreta essenzialmente però almeno c'era il raid che comunque ti poteva tenere occupato perché potevi farti il sigilo del raid comunque il raid è sempre una cosa che bene o male tiene occupati ma con questa stagione ragazzi proprio hanno toccato il fondo e lo dico sinceramente e apertamente a mio parere questa è la stagione peggiore di tutto Destiny 2 non succede niente il problema è sempre la mancanza dei contenuti perché non c'è niente una volta che ti sei fatto quelle prime 4 missioni di Saints 14 che per carità sono bellissime io le ho appassate veramente tanto le basi di lore di questa stagione la storia in generale sono veramente veramente molto belle e fatte molto bene anche in ambito di narrazione il problema è che una volta che hai fatto quello non c'è più niente non ci sono attività c'è la meridiana che essenzialmente è uguale identica al serraio ma non ti dà un motivo per cui giocarci quello che io ho sempre sostenuto riguardo Destiny che è un looter shooter è che un'attività funziona se c'è un loot adeguato ovvero io faccio un'attività non perché sia un'attività particolarmente interessante perché la meridiana non è un'attività particolarmente interessante né originale ma la farei se ci fosse un loot specifico che mi possa interessare una volta fatta la meridiana posso scegliere tra quelle due armi armi che però mi posso benissimo prendere in 10 minuti, un quarto d'ora se mi faccio le taglie degli obelischi in generale la struttura della base della meridiana andava assolutamente cambiata perché mi puoi proporre un serraio che alla fine raga la meridiana è il serraio tutto questo si sarebbe potuto bene o male salvare se ci fosse stato anche un raid cosa che non c'è stata il raid secondo me raga è proprio l'attività che salva in extremis un'espansione perché alla fine è quell'attività che ti servono tante persone per fare devi farla in gruppo devi farla per bene devi imparare a farla per bene ha un sacco di loot perché c'è un sacco di roba da ottenere dai raid ci stanno anche le quest legate le armi legate quindi sicuramente un raid poteva essere la soluzione ora io posso capire che essendo Bungie da solo al momento non avendo tutto il supporto che gli avrebbe dato Activision in termini di produzione la faccenda sia un po' complicata sia un po' difficile da ottenere ma quello che mi fa arrabbiare più di tutti ed è il motivo per cui faccio questo video oggi è collegata alla quest di ieri ieri per chi non lo sapesse è uscita la quest del rovina del diavolo questa è molto molto semplice vi basta fare la meridiana andare a parlare con Saint e fare una missione in cui dovete cercare 10 robottini invece del crepuscolo e avrete completato l'arma quindi la quest è molto corta ma non è questo il punto quello che mi ha fatto arrabbiare è che il dialogo che si sente mentre noi andiamo a cercare questi robottini all'interno di questa missione è veramente bello raga è stato vi giuro sembra una cagata è stato commovente io mi sono veramente emozionato perché è un dialogo semplice che vi spiega in qualche modo il rapporto che c'è tra Shaxx e Saladin il rapporto che c'è tra tutti i titani quindi a livello di loro a livello di storia di narrazione è un dialogo fatto secondo me da Dio è un dialogo fatto veramente ma veramente molto bene e è questo che mi fa arrabbiare più di tutti che le possibilità ci sono e sono tante perché un dialogo fatto in questo modo se me l'avessero messo magari in una quest un pochino più lunga un pochino particolata con un'arma che ci sta è un'arma divertente non è un'arma sbilanciata è un'arma divertente e particolare da usare e magari ci avessero fatto non so una cinematica di questo dialogo sarebbe stato secondo me veramente veramente una bellissima storia ora io parlo in qualche modo anche da amante di giochi di storia quindi giochi in cui appunto la storia è l'elemento principale non chiedo questo ovviamente da Destiny perché Destiny è un looter shooter non è un gioco di storia ma io penso che già mettere un pochino più di impegno all'interno della campagna farla un attimino più curata sarebbe un dettaglio che potrebbe aiutare veramente quindi essenzialmente la lamentata che io muovo a Bungie è che le possibilità ci sono le basi ci sono il problema è che i contenuti sono quello che fanno un gioco come Destiny che è un gioco che punta alla longevità quindi mi sono scritto qualche piccolo appunto per dirvi secondo me quali sono le idee che potrebbero aiutare decisamente a far risollevare il gioco che secondo me sono idee semplicissime ora ovviamente non so cosa c'è dietro a tutta la produzione del gioco quali siano le possibilità quali siano gli impegni però io ho scritto queste tre idee che a mio parere sono abbastanza efficaci ovviamente ho sentito anche Raika e ci siamo messi d'accordo primo tra tutti come ho già detto riguardante la storia ma in generale un po' tutto il collegamento della lore di Destiny che essenzialmente però è quello su cui stanno cercando di spingere all'interno di questo anno di Destiny è quello di collegare un po' più tutte le attività e motivarne di più cosa voglio dire che questa quest mi è piaciuta molto perché ha uno sfondo loristico legato alla campagna campagna di questa stagione quindi ha senso che una norma del genere arrivi proprio in questo momento e collegata appunto agli eventi che sono accaduti ma parlando di attività che sono quelle che fanno essenzialmente un gioco come Destiny che è un looter shooter e che magari sono più dirette cioè un legame più diretto tra gioco e chi semplicemente vuole giocare e chi magari si vuole appassionare alla storia conoscere tutti i retroscena eccetera eccetera il concetto di base secondo me è quello che ho detto prima che un'attività viene fatta dal suo loot io giocatore vado a fare un'attività se c'è un loot che mi interessa perché altrimenti non ci perdo tempo è il motivo per cui il serraio ha avuto successo al tempo e la meridiana non lo sta avendo adesso ovviamente se viene aggiunta un'attività stagionale ad ogni stagione mi aspetto che l'attività sia differente dalla scorsa la meridiana è un serraio lo dico e lo ripeto l'offensivo Vex non era originalissima ma alla fine aveva delle sue meccaniche tra virgolette e era un'attività quasi mai vista un elemento importante anche secondo me all'interno di un DLC o di una stagione come la volete chiamare è quello del raid che io capisco sia difficile da realizzare perché comunque bisogna fare delle grandi ambientazioni tutte le meccaniche vanno pensate vanno create vanno programmate e sicuramente non è una cosa facile da fare quindi avrebbe già più senso capire per quale motivo non è uscito il raid questa stagione ma che però tiene veramente tanto tanto occupati perché il raid all'inizio va capito poi va assimilato una volta che abbiamo imparato il meccanismo una volta fatto ciò possiamo iniziare a farmarcelo quindi a prendere tutti gli armamenti dopodiché escono le sfide quindi anche questo le sfide ti fanno fare cose in più poi magari c'è il sigillo c'è la quest legata quindi il raid è comunque una cosa che generalmente tiene occupati ovviamente la presenza di un pvp bilanciato cosa che non si potrà mai ottenere il pvp perfetto utopico che tutti vogliono non esisterà mai ma ci sono alcuni elementi che non capisco per quale motivo non vengano eliminati come per esempio quello stracazzo di Rantil che ti prende da penso il raid dell'evo che sta a Torino potrebbe sparare e prendere me da qua e armi per esempio come il bobina che insomma ecco non si sono proprio tante 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 equilibrate però io non sono espertissimo di quello quindi non mi esprimo troppo su questo punto e poi c'è quello che vabbè vogliamo tutti è che nessuno capisce per quale motivo non stia succedendo ovvero il ritorno delle prove ma le prove raga sono un'attività che già è presente in game nel senso che è già stata programmare è già stata strutturata quindi non capisco perché non capisco perché l'hanno levata ma non capisco per quale motivo non la raggiungano è una cosa che non gli costa niente magari che ne so ma la volete rivisitare volete far tornare le prove gli osiridi volete fare le prove di saint volete fare qualcosa di nuovo altre prove tanto che tornano tornano perché l'abbiamo visto ci stanno i leak che tornano ma perché così tanto dobbiamo aspettare mamma mia poi ho fatto un paio di appunti che sono idee mie personali che insomma potrebbero essere aggiunte ma è appunto uno schizzo così ditemi se se vi può interessare se è un'idea che potrebbe piacere ma non è non fa parte diciamo dell'essenziale di quello che serve al gioco è un'idea di una mia aggiunta per esempio il fatto che le armi del pinnacolo possano tornare a essere armi del pinnacolo quindi con perk esclusivi in quel modo ma che magari ad ogni stagione o scompaiono direttamente oppure tornano ad essere delle armi leggendari normali magari il perk esclusivo viene eliminato ovviamente sarebbe richiesto un farming minore rispetto alle armi del pinnacolo originari un'altra cosa che mi è piaciuta veramente tanto era l'aggiunta di una sfida lanciata tutta la community come poteva essere il laboratorio di niobe il laboratorio di niobe secondo me è stata una grandissima idea forse poco accessibile perché era abbastanza complicata però quella di lanciare una sfida diretta alla community era una grande idea hanno provato a rifarlo proprio con la sfida del protocollo che ma questo secondo me è un concetto molto interessante che in qualche modo rompe la barriera tra giocatore e community in generale io a Bungie con il cuore aperto davvero fan di Destiny da persona che ama questo gioco voglio dire di alzare l'asticella perché ve lo potete permettere le basi ci sono e la gente è insoddisfatta quindi è il momento di alzare l'asticella di portare a un livello superiore ma soprattutto di tenere conto che Destiny è un gioco che è fatto dalle attività senza le attività la gente non gioca perché non è un gioco come COD in cui c'è solamente il pvp e il pvp basta per sempre quindi ragazzi io spero di non essermi dilungato troppo vi ricordo di fermarvi dopo la premiere a chiacchierare riguardo quello che ho appena detto e detto questo direi che ci vediamo in un prossimo video siamo la tua salvezza